Espirarti, sussurrarti, levigarti senza mai toccarti come Fred Astaire. Dietro ogni canzone c'è una storia, insieme a Edoardo De Angelis vi racconteremo storie e canzoni il 24 agosto al Castello di Savuto di Cleto per la rassegna Incontri Possibili organizzata da Renato Postabile. Ti racconto una canzone, vi aspettiamo. Grazie a tutti.